Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Uno scatto che ritrae Maria De Filippi in una versione del tutto inedita, sta facendo il giro del web, sollevando non pochi commenti. Si tratta di una foto della conduttrice al mare, presso uno stabilimento balneare. La De Filippi è ritratta insieme a due ammiratori, e il suo look è ben diverso da quello a cui siamo abituati. Tanto che in molti l'hanno riconosciuta stento. La Queen Mary ha sfoggiato un paio di bermuda fantasia, una maglietta color beige, cappellino nero, occhiali da sole, e scarpe da ginnastica. Insomma, tutta un'altra cosa rispetto ai look sfoggiati di solito dalla vedova di Costanzo. In genere infatti, siamo abituati a vedere Maria con look sofisticati ed eleganti, nei vari programmi che conduce, ad esempio durante il serale di Amici. Aci posta per te, o a tu si che valles. Questa volta invece, l'abbiamo vista in vesti sportive. C'è da dire che si trova in vacanza, e che quindi non dovrebbe stupire più di tanto questo abbigliamento più comodo. Forse il pubblico è rimasto spiazzato, anche perché sono rari gli scatti della De Filippi fuori dagli studi televisivi. La conduttrice non possiede profili social, e gli unici scatti al di fuori del lavoro, sono stati sino ad ora quelli che la vedono in costume al mare, oppure in tenuta da tennis, sport che ama e che pratica da diverso tempo. Ecco il motivo per cui questo scatto in Bermuda e t-shirt ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando l'ironia degli utenti. In molti hanno faticato a riconoscerla. La foto dovrebbe essere stata scattata all'Argentario, zona in cui la De Filippi sta trascorrendo questo ultimo scampolo di vacanze estive. Come sappiamo infatti, possiede una villa ad Ansedonia, località molto cara al suo defunto marito Maurizio Costanzo. Questa estate 2023, è la prima che la conduttrice passa senza il marito, scomparso lo scorso febbraio. Un periodo non facile per la conduttrice pavese, che comunque sia, sta cercando di ricaricarsi in vista della ripartenza dei suoi programmi. A fine agosto si terranno le prime registrazioni di uomini e donne. Poi toccherà ad Amici, e a Tussi Kevales, in partenza dopo la metà di settembre. Insomma, si prospetta una stagione piena di impegni per la nostra Queen Mary. Sarà ancora lei la regina della TV italiana nella stagione 2023-2024. C'è poi un curioso malinteso che ha fatto parecchio chiacchierare gli utenti in rete in queste ultime ore. Durante il Tg1, a qualcuno è parso che una delle persone intervistate durante un servizio, fosse proprio Maria De Filippi. Non si trattava però della nota conduttrice, ma di una signora che le assomigliava parecchio. Comunque sia, i telespettatori, anche in questo caso, si sono riversati sul web, con commenti ironici, e meme che sono diventati virali in un batter d'occhio. Detto questo, nonostante lo scalpore di vedere Maria è intenuta più che sportiva, rimane il fatto che, la conduttrice, all'età di 61 anni, sfoggia ancora un fisico invidiabile. Cosa ne pensate? A voi i commenti! A voi i commenti!